Il brand journalism non è nient'altro che una via di mezzo fra tecnica e strategia che affida la narrazione giornalistica del sistema sociale produttivo all'azienda stessa al fine di ottenere obiettivi di comunicazione o di marketing. Serve all'azienda a trasformarsi in media company, ossia ad iniziare a produrre in proprio i contenuti della propria comunicazione, come se fossero degli editori veri. Il giornalismo d'impresa diventa un strumento per riconoscere, organizzare e produrre storie aziendali per ottenere obiettivi di differenziazione competitiva. Serve creare storie basate sui fatti e sulle notizie, storie equilibrate, documentabili e verificabili, da pubblicare nel momento giusto. Si fonda sul principio di trasparenza della notizia. Il brand journalism integra video, audio e fotografia, stessi strumenti che vengono utilizzati anche nello storytelling, ma con obiettivi diversi. I social media vengono utilizzati come canale di distribuzione delle news. È fondamentale eseguire una ricerca di contenuti di qualità e organizzarli in appositi format di contenuto, utilizzando i principi della content curation, al fine di distinguirsi e fornire una notizia di reale valore. Vogliamo aiutarvi a scegliere i giusti contenuti, cercare di aiutarvi ad instaurare vere relazioni con i visitatori, magari proponendo una selezione settimanale delle news più importanti riguardo il meglio del vostro operato. Può trattarsi di un servizio utile con la quale evidenziare i principali eventi o cambiamenti riguarda un certo settore o prodotto, in modo tale che il cliente rimanga sempre informato. Il brand journalism sui social è elegante fra il servizio video e il servizio fotografico e noi vogliamo garantirvi un servizio completo perché la vostra soddisfazione è la nostra soddisfazione.